primo giorno oggi non me ne frega niente di prendere pesci pesce da portare voglio stare solo in mezzo al mare solo unicamente al centro di mare vediamo che succede già piano ecco il primo pesce dopo il cuovi primo tonno rosso primo pesce e le canne parto partono partono in continuo tutti pescetti però come primo giorno il divertimento non lo mettiamo è un tappeto di tartarughe, delfini e tutti questi tonnacchi tartarughe tante un tappeto di sottotitoli, delfini e delfini e delfini e delfini Sì era corto che era stovobre Sì è vero di questa misura questo un po' si è fatto male ora che ho giocato una mattinata con i toni rientriamo, mi faccio un po' di sugarelli per mangiare almeno porto qualche cosa a casa vediamo che succede a 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 Belli Belli Grazie a tutti.